Una bellissima raccolta di racconti dedicata ai ragazzi e alle famiglie del rugby paese. Storie per tornare a sognare, questo è il titolo del progetto editoriale nato durante il lockdown in seno al direttivo del rugby paese con l'obiettivo di far sentire la vicinanza della società ai ragazzi. Un volume di buon auspicio consegnato proprio al ritorno nei campi degli atleti. L'idea di realizzare un libro dal titolo Storie per tornare a sognare nasce all'interno del direttivo del rugby paese per far sentire ai ragazzi durante il periodo del lockdown nella nostra vicinanza, fargli sentire che anche se non si poteva giocare, non potevamo calcare i campi, comunque la società e il gruppo di adulti che segue i ragazzi era comunque vicino ai bambini e a tutti i giocatori. Da questa idea è nato appunto questo libro che raccoglie 14 storie realizzate da autori davvero molto bravi e la nostra idea era semplicemente quella di farci sentire vicini ai ragazzi. Un progetto che ha coinvolto grandi scrittori anche di taratura nazionale che ha riempito il cuore del direttivo. Luca Pinzi è da anni uno degli scrittori che noi seguiamo perché è vicino sempre alle associazioni e alla realtà del territorio Veneto e non solo. Oltre a Luca ci sono ovviamente molti altri autori da Mazzoccato a Giuliano Pasini fino a un intervento delle voci più importanti della musica italiana che è Massimo Priviero che ci ha regalato l'ultimo racconto. È un libro che si legge piacevolmente, è scritto da scrittori per ragazzi e quindi noi contiamo che questa testimonianza sia sì un momento di lettura ma anche un momento di ricordo quando fra qualche anno nello scaffale vedranno questo libro bello giallo e si ricorderanno quando saranno un po' più vecchi di quel bellissimo momento che è stata la loro giovinezza nei campi di rugby di Paese. Il rugby Paese continuerà a svolgere gli allenamenti anche per i mesi di giugno e luglio grazie alla disponibilità degli oltre 30 allenatori e accompagnatori che seguiranno lo staff nell'attesa della nuova stagione. Devo fare un grandissimo ringraziamento ai nostri sponsor sono stati meravigliosi in questi due anni perché tutti quanti ci hanno dato una mano magari rivedendo un po' le cose però quello che ci è stato promesso è stato fatto e le prospettive sono discretamente buone. Sicuramente il momento non è dei migliori per tutti alcuni sponsor sono un po' in difficoltà però io vedo che abbiamo seminato bene secondo me in questi anni e le persone ci stanno riconoscendo un bel ruolo all'interno della società e all'interno del Paese direi del Paese quindi io sono fiducioso che comunque i nostri amici ci saranno molto vicino anche perché di fronte a queste strutture, a questi ragazzi io credo che ci sia la volontà di fare il meglio possibile da parte di tutti. I nostri sponsor sono stati bravi e noi abbiamo voglia di tornare a fare un sacco di attività purtroppo in questi anni è mancata la festa della birra sono mancati tutti i tornei, i concentramenti speriamo che a settembre si possa rifare qualcosa di serio e noi siamo pronti per fare questo.